Arriva con Quarrata la quarta sconfitta consecutiva per l'Amen Scuola Baschettarezzo che non riesce a trovare le energie necessarie a uscire da questo tunnel negativo. Quarrata ha il merito di rimanere concentrata per tutti i 40 minuti approfittando dei momenti difficili degli amaranti. Rispetto alle ultime uscite la SBA parte con maggiore attenzione tanto da sorprendere gli avversari con un 7-2 parziale, poi però la gara si incanala sui binari dell'equilibrio fino all'intervallo dove l'Amen va avanti 31-29. Il terzo parziale è quello che decide la gara in negativo per la squadra di Pacini. Nonostante delle buone trame offensive gli amaranti omettono a riferto solo 6 punti in 10 minuti subendo il sorpasso da parte di Quarrata trascinata da un ottimo maccione. L'ultimo quarto, nonostante la stretta differenza di punti tra le due squadre, veda sempre gli ospiti condurre e gestire con attenzione il finale dove le triple di Navicelli tesi e un piazzato dall'angolo di Ganguzza valgono il successo pistoiese. Unica nota positiva per l'Amen nell'aver mantenuto la difesa canestri a favore ma se gli amaranto non avranno la forza di tornare al successo la strada verso i playoff sarà molto tortuosa. Domenica, terz'ultima giornata di campionato con la trasferta a Siena sul campo del Costone, la gara si giocherà domenica alle 20 nello splendido Pala-Orlandi. Facendo un'analisi compita dell'incontro, chiaramente pensando a 11 triple degli avversari, è una cosa enorme mai vista nei nostri campi da gioco. Si sapeva che le caratteristiche di Quarrata erano queste, che erano chiaramente in tanti tiratori da tre punti si doveva cercare un attimino di limitare. Abbiamo limitato secondo me in difesa perché 60 punti sono una buona difesa. Il problema è che non abbiamo trovato i punti in attacco che ci hanno permesso di poter vincere la partita. Io sinceramente dico una cosa, le ultime partite ragazzi non mi erano piaciuti perché è un atteggiamento molle e poco aggressivo, mentre stasera sinceramente ho visto che tutti, veramente tutti, hanno dato tutto e allora bravi a Quarrata perché purtroppo ci sono anche gli avversari.